Lavora da anni per promuovere e portare a conoscenza degli agricoltori e dei consumatori gli alimenti funzionali ed ora la CIA punta anche sull'olio extravergine di oliva, un'eccellenza della nostra regione conosciuta in tutto il mondo. A questo prodotto è stato dedicato un convegno organizzato a Pergola in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. La nostra provincia ha dei territori vocati alla coltivazione dell'olivo, tant'è vero abbiamo anche una DOP, la DOP di Cartoceto, ma comunque sì anche altri territori hanno la predisposizione per questo tipo di coltivazione. Quello che noi vorremmo fare è proprio valorizzare, puntare su questo alimento perché dia la possibilità ai nostri agricoltori di poter vendere, di potersi proporre sempre meglio nel mercato. E sono diverse le proprietà benefiche dell'olio extravergine, infatti fa bene al cuore e alla salute cardiovascolare, riduce il rischio di trombosi, ictus, infarti e neoplasie, inoltre è privo di colesterolo e il suo contenuto di vitamine e di antiossidanti lo rendono un alimento fondamentale per il benessere a tutte le età. A parlare di qualità dell'olio e dei metodi di raccolta è stato invece Tonino Cioccolanti, presidente dell'Associazione Interregionale Olivicola del Medio Adriatico. L'olivo oggi è un'opportunità di reddito per le nostre aziende e questo implica che deve essere meccanizzato e deve essere seguito come una cultura da frutto, come tutte le culture da frutto. Quindi implica attenzione sulle concimazioni, quindi sulle fertilizzazioni e una grande attenzione sul controllo dei parassiti che sempre di più deve essere a basso impatto ambientale, quindi utilizzando o biofarmaci, utilizzando tecniche che ci permettono di sfuggire all'attacco di parassiti e infine non ne possiamo proprio fare a meno la meccanizzazione. Oggi dobbiamo assolutamente meccanizzare l'olivo per renderlo competitivo e quindi poter produrre degli oli tipici, riconoscibili dal consumatore, ma anche che siano sostenibili, acquistabili dal consumatore stesso. E per fare questo ci sono tecniche molto interessanti, dai abbacchiatori con pettine, agli scuotitori da tronco, fino a molto alle macchine, grandi macchine scavallatrici, ma che devono operare su degli oliveti fatti con tecniche nuove che si dicono ad alta densità o super intensivi.